Musica Elezioni anche nelle marche, vola al centro-destra, Fratelli d'Italia il primo partito, secondo il PD, crollano Lega e Movimento 5 Stelle, pronti a partire per Roma gli assessori regionali Guido Castelli, Mirko Carloni e Giorgia Latini. Una sconfitta dolorosa e pesante, il sindaco Matteo Ricci commenta il flop elettorale del PD, il centro-destra ha trionfato anche a Pesa. Penso che era annunciata e penso che anche la divisione con Calenda, che non si è più alleato col PD, sicuramente ha inciso molto. Stefano Guzzi resta in regione, dopo la candidatura con Forza Italia, l'assessore alla protezione civile risponde per la prima volta alle richieste di dimissioni post-alluvione, chi specula sulle disgrazie ha detto deve vergognarsi. Mal tempo, domani a Barbara l'ultimo saluto al piccolo Mattia, la più giovane delle vittime dell'alluvione a San Lorenzo in campo, sarà luto cittadino. Appica un incendio nel comando della polizia locale di Lucrezia, 68 anni incastrato dalle telecamere di video sorveglianza, poche ore prima era stato sanzionato per guida in stato di ebrezza. Comunica il cambio di sede, ma gli staccano subito la corrente elettrica, la protesta di Cattiuscia, titolare di un centro yoga che si è incatenata negli uffici fanesi dell'azienda di fornitura. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano le elezioni politiche che anche nelle Marche hanno visto il centro-destra fare incetta di seggi. Vediamo nel primo servizio allora i risultati ottenuti dai partiti e quali candidati partiranno per Roma. Un risultato non scontato ma di certo storico per la destra italiana e dati alla mano. Anche i marchigiani hanno confermato le previsioni scegliendo il centro-destra con il 44,6% delle preferenze. Il partito che ha ottenuto più voti è Fratelli d'Italia, che ha superato il 29%, secondo il Partito Democratico con il 20,3%. Invece il Movimento 5 Stelle, che era il primo partito nel 2018, ha dimezzato i consensi ed è sceso al terzo posto. In calo anche la Lega, che non è arrivata all'8%, mentre Forza Italia si è fermata al 6,8%. In totale per la nostra regione sono 15 gli scrani per Roma. Per la Camera dei Deputati sono stati eletti Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e sottosegretario uscente alle politiche agricole, Stefano Benvenuti-Gostoli, coordinatore di Fratelli d'Italia di Ancona, Mirko Carloni della Lega, vicepresidente della Giunta regionale e Giorgia Latini, assessore alla cultura della regione. Per il Senato, invece, sicuri Antonio De Poli, già questore anziano del Senato e presidente dell'Unione di Centro Elena Leonardi, consigliera regionale e coordinatrice di Fratelli d'Italia. Vince il buon governo del centro-destra, vincono le Marche. La priorità immediata è pensare ai territori colpiti dall'Unione, a cui bisogna dare risposte urgenti e immediate. Adesso comincia il lavoro più importante al servizio di cittadini, famiglie e imprese. Abbiamo di fronte sfidi importanti e difficili. Dobbiamo fronteggiare subito l'emergenza del caro energia. Ringrazio tutta la coalizione di centro-destra che ha contribuito a questo importante traguardo. È una vittoria di squadra, dei territori, un traguardo che dedico a tutti i marchigiani. A risultato di Fratelli d'Italia ha commentato invece Elena Leonardi. Questa mattina hanno contribuito alla classe dirigente che ha costruito il partito in questi anni sul territorio, la credibilità e le nostre persone con il loro impegno e il loro programma. Non è la prima volta, ha concluso che registriamo un dato superiore al dato nazionale. Siamo riusciti a dare quelle risposte e quelle proposte che chiedevano gli italiani. C'è creduto equilibrio tra quello che era il sentimento e la volontà dei cittadini rispetto a un governo che fino ad oggi non rispecchiava più gli equilibri reali, le volontà e i sentimenti reali della popolazione italiana. Oggi la democrazia ristabilisce questo principio. Per quanto riguarda il proporzionale, invece, sono con un piede in Parlamento l'assessore regionale a bilancio Guido Castelli, Antonio Baldelli e Lucia Albano per Fratelli d'Italia, Alberto Lozacco e Irene Manzi per il PD e Giorgio Fede per il Movimento 5 Stelle. I risultati complessivi sono ancora parziali, ma mentre stiamo registrando il servizio, risultano tra i possibili eletti anche l'ex sindaco di Force, Augusto Curti, e il commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. Sono ancora in attesa del quadro definitivo, ha dichiarato nel tardo pomeriggio di oggi il governatore Francesco Acquaroli, ma la prima impressione, ha detto, è quella di un risultato storico per la coalizione di centrodestra nelle Marche. Un risultato proseguito che conferma in maniera netta, chiara e inequivocabile anche l'apprezzamento e la fiducia per il lavoro, iniziato nel 2020, che oggi si rafforzerà con una folta rappresentanza marchigiana in Parlamento. E ora, con l'aiuto della grafica, mettiamo a confronto i risultati registrati nelle città di Fano, Pesaro e Urbino. Cominciamo da Fano, dove più di 13.500 persone, pari al 42,73% delle preferenze, hanno votato per il centrodestra. Seguono il PD e il Movimento 5 Stelle, centrodestra in testa anche a Pesaro, con circa il 38%, secondo il PD con il 32%, dunque un distacco più sottile. Infine, a Urbino c'è stata un'inversione di tendenza. In 2.700 hanno scelto il Partito Democratico, pari al 36,6%, mentre il 35% il centrodestra. Al terzo posto, sempre i pentastellati. Torniamo a dare uno sguardo a livello regionale per il dato definitivo dell'affluenza, che si è attestato al 68,3% per la Camera, confermando la flessione di circa 9 punti rispetto al 2018, quando si erano recati alle urne più del 77% degli aventi diritto al voto, risultato identico per il Senato. Gli elettori nella provincia di Pesaro e Urbino sono quelli che hanno sentito maggiormente il richiamo alle urne. Il dato definitivo è del 69,2%, seguendo le province di Macerata, Fermo, Ancona e Ascoli Piceno. Invece, il comune che ha registrato la maggiore affluenza nella provincia di Pesaro e Urbino è Peglio, con oltre 76%. È seguito da Monte Calvi in Foglia, Macerata Feltria, Sasso Corvaro Auditore, Sant'Angelo in Vado, Monte Cerignone e Carpegna. E come avete sentito, nel servizio di apertura Forza Italia nelle Marche si è fermata al 6,8%, circa. Un dato che abbiamo commentato con il candidato Stefano Aguzzi. L'assessore, però, dopo diversi giorni di silenzio, ha deciso anche di rispondere alle polemiche e alle richieste di dimissioni avanzate da esponenti della sinistra per la gestione dell'alluvione. Sentite. Più di 51.000 marchigiani hanno scelto e votato Forza Italia. Lei era in lista con la campionessa olimpica e già sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. L'elezione è sfumata? Beh, l'elezione di Stefano Aguzzi non è che sia sfumata. Io ero al secondo posto a livello regionale e Forza Italia se ne eleggerà uno, perché ancora non è stato ben definito il risultato, se ne eleggerà uno, elegge il numero uno. Quindi chi era davanti a me, Valentina Vezzali, che se la sta giocando in questo momento con il secondo del PD. Quindi non si sa se scatterà il secondo del PD o il primo di Forza Italia. Se scatterà sarà Valentina Vezzali. Io ho dato un contributo alla lista, un contributo a Forza Italia e mi fa anche piacere il risultato che alla fin fine abbiamo ottenuto. Qual è stato, secondo lei, il punto di forza della centrodestra, ma anche come valuta il dato ottenuto da Forza Italia? Beh, guardi, il centrodestra che vinceva era abbastanza scontato. Che i Fratelli Italia avrebbero avuto un grande risultato era altrettanto scontato e io l'avevo fortemente previsto, anche oltre le previsioni come di fatto è stato. Forza Italia era sicuramente fagocitata, diciamo, da questo esploat della Meloni. Invece vi dirò che quell'otto e quasi e mezzo per cento a livello nazionale mi soddisfa moltissimo, perché Forza Italia non solo ha avuto un buon risultato, ma avrà anche un ruolo centrale nel nuovo governo, di grande forza, perché comunque è una forza moderata, europeista, che farà parte del nuovo governo con ministri di peso e sicuramente con anche delle buone idee da proporre. In questi ultimi dieci giorni ha fatto poca campagna elettorale. È stato nel merino delle polemiche post alluvioni. Che cosa risponde a chi le ha chiesto di fare un passo indietro? Succede questo, che il risultato a livello nazionale mi soddisfa molto, ma mi soddisfa anche quello a livello locale. La provincia di Pesaro, storicamente, insieme a quella di Ancona, nelle Marche è sempre stato il fanalino di coda per Forza Italia. Invece, in questo momento, la provincia di Pesaro ha, diciamo, un po' pareggiato quello che è il risultato anche del sud delle Marche. Dalle regionali in poi Forza Italia è cresciuta in questa provincia. Quindi, se vi promettete, forse anche in piccolo merito, ce l'ho anche personalmente. Seppur, oltretutto, io nell'ultima settimana, anzi, negli ultimi dieci giorni, dopo che è successa la disgrazia dell'alluvione del Misa, io come assessore alla protezione civile ho passato esclusivamente il mio tempo, giorno e notte, seguire a quell'emergenza, stando sui territori, sul campo, la sala operativa, e di conseguenza io non ho più fatto campagna elettorale. Sfido chiunque a dire di aver ricevuto nell'ultima settimana una telefonata da Stefano Guzzi. Io non ho neanche telefonato gli amici, quindi non ho fatto campagna elettorale, non avrei cambiato le sorti del mondo, ma magari qualche centinaia di voti in più, nella mia Fano, probabilmente sarebbero usciti se io mi fossi impegnato fino alla fine. Ma va bene così, sono soddisfatto e ho fatto il mio lavoro, il mio dovere, che era la priorità, quello dell'alluvione, non la campagna elettorale. Su questo invece mi meraviglio molto di una cosa e lo voglio dire, sono stato zitto per una settimana, ho subito per una settimana, non ho replicato perché non avevo voglia, tempo e non ritenevo opportuno. Ma tutti questi attacchi che io ho ricevuto in questi dieci giorni, durante la campagna elettorale, da esponenti della sinistra e particolarmente del PD, sui social, attraverso la stampa, ma anche negli incontri pubblici che hanno tenuto sul territorio, richieste di dimissioni, come se fosse colpa mia quello che è avvenuto sul Misa, ecco, speculare sulle disgrazie della gente, sui poveri morti e sulle persone ancora sotto il fango, è da vergognarsi. Quindi chi lo ha fatto si deve vergognare. Non ha voluto rilasciare interviste invece il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che però sui social ha commentato il risultato elettorale, parlando di una sconfitta dolorosa e pesante. In bocca al lupo a Giorgia Meloni, nell'interesse del Paese, ha scritto Ricci, noi dovremo fare un'opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso. Nelle prossime ore, aggiunto, proverò a fare un'analisi del voto approfondita, ma due cose le posso già dire. Per prima cosa, il problema non era il campo o l'alleanza larga, ma non essere riusciti a farla. Poi, non si può che ripartire dai sindaci progressisti e riformisti, dalla sinistra di prossimità. I comuni, a concluso Ricci, sono l'unico livello istituzionale dove governiamo con il 70% dei sindaci di centro-sinistra. E a commentare il risultato è stato anche il Movimento 5 Stelle di Fano. Fino a poche settimane fa, si legge in una nota, era in dubbio persino la doppia cifra. Oggi il Movimento 5 Stelle esce dalle elezioni politiche, superando il 15%, raggiungendo percentuali, fino a ieri, ritenute irrealistiche anche in diverse regioni del centro-nord. Ci davano per morti, invece, siamo ancora in buona salute, ha dichiarato invece la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, che ha aggiunto, il PD ha la maggiore responsabilità politica della vittoria della destra. Mi auguro che Letta riconosca gli errori commessi e faccia un passo indietro. Ma sentiamo anche le prime reazioni, i commenti a caldo dei cittadini, nelle interviste che ha realizzato per noi Stefano Barnesi. Si aspettava questo risultato dal centro-destra? No. Cosa si aspettava? Io mi aspettavo 5 Stelle, ad essere sinceri. Qual è stato, secondo lei, il motivo preponderante della vittoria del centro-destra? La voglia del cambiamento degli italiani, la voglia del cambiamento, perché si prova di volta in volta a cambiare, per vedere se cambia qualcosa non cambia mai niente. E la gente ha provato di qua. Era scontata, diciamo, sì. Cosa non ha funzionato, secondo lei, nel centro-sinistra invece? Nel centro-sinistra ha funzionato che essersi attaccati a Draghi vuol dire perdere le elezioni. Praticamente è quella stata la scelta, secondo me, determinante. Avrebbero dovuto difendere di più il governo Conte. Non l'hanno fatto e penso che sia questa la conseguenza. Era quasi già risaputo che avrebbe vinto. Quali sono stati, secondo te, i motivi per i quali il centro-destra ha vinto così tanto? Ma io credo sia stato un modo di protesta, perché le persone, diciamo, sono... non si sono sentite rappresentate quasi da nessun partito e per questo motivo, diciamo, siamo tornati un po' a quelle che sono le origini della nostra reazione, ovvero la destra. Ho anche votato il centro-destra. Quali sono le motivazioni per le quali ha votato il centro-destra? Coerenza. Una grande coerenza da parte della Meloni e devo dire questi attacchi che ha avuto in campagna elettorale che sono stati spropositati e non opportuni. È proprio su questi attacchi che, molto ovviamente, c'è stata molta gente che ha riflettuto. Si aspetta quindi un governo di legislatura che duri cinque anni? Spero. Lo spero. Anche perché in Italia l'abbiamo bisogno. Penso che era abbastanza annunciato. Io ho fatto anche l'ascrutatrice, quindi ho potuto vedere già da un piccolo seggio di Pesaro come, diciamo, corrispondesse poi a quello generale nazionale. Penso che era annunciata e penso che anche che, diciamo, la divisione che c'è stata, diciamo, con Calenda, che non si è più alleato col PD, sicuramente ha inciso molto, anche perché, diciamo, anche i voti di Calenda ci sono stati. Quindi sicuramente se fosse stata una sinistra più compatta il risultato sarebbe stato diverso. Cosa dovrebbe fare adesso la sinistra? Parte a fare opposizione, dovrebbe ricostruirsi dalle basi? Beh, sicuramente sì, dovrebbe farsi un'analisi di coscienza e soprattutto, probabilmente, dovrebbe anche cambiare leader. Quindi lei pensa che sarà un governo che non durerà cinque anni? Ma no, al massimo sei mesi poi e poi. Al massimo, poi un governo. Ma qual è il governo? Tant'altro non governa lui. Quel governo lì deve fare ciò che vogliono gli altri, i veri padroni. Chi sono i veri padroni? Apriamo adesso la pagina della cronaca con il tragico incidente avvenuto a Fabriano, dove un operaio di 65 anni è morto, fulgorato, mentre provava a scollegare dei cavi elettrici. È successo intorno alle 14.15 in un'azienda agricola. Immediati soccorsi dei sanitari, anche a bordo dell'eleambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato che indagano sull'accaduto. Verranno celebrati domani, martedì 27 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara, in provincia di Ancona, i funerali del piccolo Mattia Luconi, otto anni, vittima dell'alluvione che ha colpito le marche il 15 settembre scorso. Lo ha comunicato su Facebook Davide Dellonti, sindaco di San Lorenzo in Campo, dove il bambino viveva con la madre, Maria Silvia Mereu. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Pietro di Arcevia. Oggi, con ordinanza, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza dei funerali del piccolo Mattia. In segno c'è scritto di stima, affetto, rispetto e partecipazione. Le piogge del fine settimana non hanno fermato le ricerche della 56enne Brunella Q, che risulta ancora dispersa in azione, sia a terra che lungo il fiume, i vigili del fuoco, dotati anche di droni. I sommozzatori, il soccorso alpino, la protezione civile e l'elicottero Volpe 410 della Guardia di Finanza. Ancora cronaca, con l'incendio appiccato nella sede del comando della polizia locale di Lucrezia di Cartoceto e subito spento dal comandante e da una collega. Grazie alle immagini delle telecamere, gli agenti hanno potuto individuare il responsabile. Si tratta di un 68enne del posto, che ora è stato rimesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Comandante, che cosa è successo nella giornata di venerdì 23 settembre? Allora, venerdì si è verificato uno spiacevole episodio, in quanto nella mattinata una nostra pattuglia, durante il normale controllo del territorio, ha fermato e sanzionato, per cui è stato di ebrezza, un soggetto residente qui del posto. Nel primo pomeriggio il soggetto, per ritorsione, è venuto qua e praticamente ha piccato il fuoco nella porta sul retro dell'ufficio. E vi siete accorti voi perché eravate all'interno? Fortunatamente eravamo all'interno io e una mia collega, siamo intervenuti subito e abbiamo spento le fiamme e poi, grazie all'impianto di videosorveglianza che è presente qui nella struttura, siamo riusciti a risalire al soggetto che è già conosciuto per altri precedenti penali, insomma. Si tratta di un ragazzo o di una persona più grande? No, è una persona di mezza età, insomma, qui residente, quindi sul posto. Nelle ore successive quali sono state le vostre attività? Grazie a questa visione delle immagini e anche all'aiuto della locale stazione dei carabinieri di Saltare, siamo risaliti al soggetto, siamo andati a casa sua, abbiamo eseguito una perquisizione e poi l'abbiamo messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso, insomma. E per fortuna vi siete accorti, dicevamo, perché in questo stabile le fiamme avrebbero potuto provocare danni ingenti. Considerando che eravamo in pieno giorno e si poteva verificare veramente una cosa spiacevole perché poteva andare a fuoco tutto. A Fano invece una donna si è incatenata negli uffici di un'azienda che fornisce luce e gasa dopo aver subito l'interruzione della corrente elettrica pare per un errore da parte degli uffici. Cacciuscia, andiamo indietro di qualche giorno, che cosa è successo e quando le è stata staccata la luce? Mercoledì, mercoledì per un errore loro io avevo chiesto la cessazione a partire dal 4 ottobre dopo un quarto d'ora. C'è la registrazione scritta a far data dal 4 ottobre, dopo un quarto d'ora hanno staccato tutto. Non c'è stato modo né col numero verde né col distributore né fornitore sono venuta qui venerdì mattina mi hanno detto di mandare una mail nel weekend non è successo niente sono tornata adesso la signora dice che ha parlato con il responsabile che a sua volta vuol chiamare il distributore ma non risponde il distributore hanno mandato una pecca e devo aspettare quattro giorni in cui io non ho potuto lavorare lavarmi né luce né acqua calda tutto quello che avevo nel frigo è andato via lezioni online impossibile questo è. Lei ha chiesto l'interruzione perché voleva cambiare la fornitura? No no io ho chiesto l'interruzione perché mi trasferirò e quindi avevo chiesto dopo quando io sarò partita la cessazione e loro mi hanno assicurato dopo il 4 ottobre Hanno ammesso però le proprie responsabilità? Assolutamente sì c'è tutto lo storico scritto che la mia richiesta partiva dal 4 ottobre l'errore è loro l'hanno ammesso ma non lo risolvono E ora che cosa farà? Io non mi sposto di qui finché oggi non mi riallacciano la corrente non ho paura C'è anche un rimpallo di responsabilità da come ho capito Assolutamente hanno rimpallato tra la distribuzione la fornitura il gestore e a me e a me a me non interessa io non mi sposto di qui perché una che ha sempre pagato le bollette anche durante la pandemia io non lavoravo e non ho mai chiesto una dilazione di pagamento pretendo se avessi avuto bambini piccoli anziani malati sì che mi arrancio ma io sono 4 giorni che non mi posso lavare con l'acqua calda no basta Pensa anche di richiedere un risarcimento a questo punto Assolutamente ho già avvisato il mio legale che sta facendo partire una diffida immediata E va precisato che nonostante le nostre richieste all'azienda non hanno voluto rilasciare dichiarazioni Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi vi riproponiamo la serata dedicata alle prefinali di Miss Italia che si è svolta nei giorni scorsi nella città di Fano Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e arrivederci a domani sera